... 5 bella palla occhio bravo Rientro! Bella palla! Bella palla! Bello! Dai! Dai! Ma cosa anzi? Che partito vuoi mettere? Ma cosa anzi? Ma cosa anzi? Questo! Si che partito vuoi mettere No! Qu'è? No! 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 non sapevo cosa ha detto, cosa ha detto, gira, non fallo, prendiamo gol bravo non si è fidato non si è fidato, non gioco la mia avenda sotto ai? si, guarda un gioco posso guardare un gioco? e hai qualcosa di più a chi dice, guarda una chieva un gioco se può guardare un gioco VAMOS! non va a dare l'esempio a farne vai vai bravo 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 david ha cylinder nya bravo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.